Ecco, vorrei mostrarvi la mia speciale collezione di carte. Abbiamo un 9 di picche, un altro 9 di picche, un altro 9 di picche, ancora un 9 di picche. Come avrete capito, questa collezione è formata da tutti i 9 di picche, tranne una carta. Questa è la donna di cuori. Questa è una carta matta, basta metterla vicino a un 9 di picche, fare un po' così, e incredibilmente il 9 di picche si trasforma diventando uguale alla carta matta. Riproviamo, prendiamo un secondo 9, lo mettiamo a faccia in giù così, basta fare un giro magico così, uno schiocco e anche il secondo 9 si trasforma diventando uguale alla carta matta. Proviamo con la terza carta. Ancora una volta un giro magico, uno schiocco e si trasforma il 9 nella carta matta. E ogni singola volta che metto un 9 di picche vicino alla carta matta, si trasforma diventando uguale alla carta matta. Proviamo con quest'altra, la mettiamo a faccia in giù tra le altre due, basta fare un giro così, uno schiocco e anche questo 9 si trasforma. Prendiamo quest'altra, anche questo lo mettiamo a faccia in giù, un gesto magico e anche questo si trasforma diventando uguale alla carta matta. Anche questo, basta fare un passaggio magico così e si trasforma. L'ultimo 9 non lo voglio neanche toccare, lo lascio sul tavolo così a dorso in su. Prendo le altre carte matte, le strofino contro il dorso del 9 e magicamente anche questo si trasforma diventando uguale a tutte le altre carte matte.